Musica Le immagini della sfida tra la Feldi Eboli e la Real Caivanese con i padroni di casa che hanno ancora una residua chance per arrivare ai playoff al cospetto di una Caivanese che invece cerca punti salvezza per l'ontanazione alle zone calde della classifica recuperate due piedini importanti, insomma ripro da una parte e parente dall'altra ci sono anche molte polemiche nel finale, non abbiamo le immagini di un presunto rigore non assegnato alla Caivanese e anche di quello che è successo dopo la rete della vittoria della Feldi e anche dell'espulsione di Santoro se ci dovessero arrivare le commenteremo abbiamo visto il palo colpito da articolare per la Caivanese su assist di Antonucci e risponde alla Feldi con un altro montante colpito questa volta da Parente il palo esterno, poi il gol dell'avvantaggio dei padroni di casa sull'assist di Parente la realizzazione è di Santoro per l'1-0 ancora Feldi pericolosa a caccia del gol del raddoppio sempre a Santoro a incunearsi nella difesa avversaria l'assist perfetto per Barone che non trova lo specchio della porta la reazione della Caivanese è affidata ad Antonucci conclusione mancina, altro palo esterno colpito ancora Antonucci ha la chance per la Caivanese la triangolazione e poi il tiro sempre con il mancino sull'esterno della rete Santoro per la Feldi e Boli dopo questo tiro di Parente il sinistro che non inquadra il bersaglio tocca alla Caivanese che va a sfruttare questo calcio di punizione con Paolino schema perfetto con Somalipa che esce dal buco della barriera e trova così il gol del 2, dell'1-1 ancora in avanti la Feldi e Boli e subito arriva il gol del nuovo vantaggio Targato Parente con questa perfetta ripartenza la Feldi e Boli spinge sull'acceleratore a caccia del gol del 2, del 3-1 ancora con questa bella azione manovrata apparente si libera dell'avversario con un gioco di prestigio poi il destro ad incrociare non inquadra il bersaglio sull'altra sponda risponde immediatamente la Caivanese con questa conclusione di Somalipa la posizione è defilata, non riesce ad inquadrare la porta tocca al Silvestro, ancora una chance per l'Eboli l'occasione è creata da Santoro poi il destro di Silvestro con la bella parata di Fuschino di nuovo Feldi in avanti dopo questa chance per la Caivanese in ripartenza fallita immediatamente il sinistro di Santoro fermato poi ancora la conclusione di Manzi è una partita che vive di tantissime emozioni con Paolillo in chiusura di primo tempo che prova ad inquadrare la porta sul calcio di punizione ma non inquadra il bersaglio con le immagini siamo al secondo tempo ancora tantissime occasioni qui subito la prima di Brunelli per la Caivanese con questa azione insistita attenzione ancora la palla dentro con il salvataggio in estremis di Taffarell poi la Feldi risponde ancora con Santoro attenzione a questa manovra dei padroni di casa il sinistro però è da dimenticare di nuovo Caivanese con Brunelli che prova con questa conclusione a distanza c'è la deviazione di Taffarell che mette la sfera in calcio ad angolo poi il tentativo di Parenti che non inquadra il bersaglio da posizione centrale altro calcio ad angolo si addormenta qui la difesa della formazione locale con l'arbitro che però interrompe il gioco andiamo avanti con le immagini ancora con la Feldi che vuole il gol del 3-1 per mettersi al riparo da una possibile rimonta della Caivanese attenzione al calcio di punizione di Parenti con il salvataggio di Fuschino ma il gol è nell'aria è sempre apparente l'uomo in più in questo momento della partita per la Feldi il calcio di punizione questa volta trova il buco in barriera e realizza così la rete del 3-1 per i padroni di casa ma la partita non finisce qua insiste ancora la Caivanese con quest'altra ripartenza fermata poi dalla Feldi Eboli che cerca in tutti i modi di archiviare la gara splendido questo tacco a seguire con il tocco sotto la palla che viene deviata all'estremo difensore avversario poi Paolillo ancora la palla dentro il salvataggio miracoloso di Taffarella ancora un'iniziativa per la Feldi con quest'altra ripartenza di Manzi fa tutto benissimo la parata di Fuschino gli nega il gol di nuovo sulla trasponda la Caivanese la palla dentro e c'è il gol di Paolillo quello del 3-2 che riapre il match non finisce qui ancora Caivanese in avanti la ripartenza velocissima la palla per Brunelli e arriva anche il gol del 3-3 con la disperazione della panchina salernitana la Feldi prova a spingere in avanti con il portiere di movimento Barone non trova la rete in questa circostanza minuti finali ancora un tentativo della Feldi che spinge ancora in attacco con le ultime shots scorrono i secondi i passaggi ripetuti la palla dentro e arriva il gol di Civale quello del 4-3 che fa esplodere di gioia a tutti i giocatori della Feldi e poi nel finale saliranno le proteste della Caivanese a te che